Dopo il successo ottenuto al torneo di Lucca, grazie alle vittorie con Varese e Pesaro, e le immagini si riferiscono proprio alla finale dell'Ovari, la Deflex si è aggiudicata anche il Memorial Porelli, che si è giocato in Emilia a Castel San Pietro e che ha visto di fronte Pistoia e la Virtus Bologna, squadra di Lega 2 ma tra le favorite per una pronta risalita in Serie A. Il match è terminato 101-87 per i Biancorossi, con Davide Cornò, 21 punti, mattatore della serata in gran forma dopo i problemi alla schiena evidenziati al palatagliate. In doppia cifra sono finiti anche Hawkins, 20, Antonuti e Thornton, 13 a testa, e Boot, 11. Sul fronte Felsineo spiccano i 28 punti di Umè e i 16 dell'ex Guido Rosselli. La partita è stata equilibrata e molto dura anche fisicamente, come dimostrano il tecnico affibbiato al bolognese Spizzichini e soprattutto l'espulsione di Pettway. A risolvere la contesa ci hanno pensato nel finale Thornton e Hawkins. Ora la deflexa è attesa dall'ultimo appuntamento precampionato in programma domenica pomeriggio a Siena contro la menzana di Giulio Griccioli, altra squadra di Lega 2. Poi, coach esposito del suo gruppo potranno pensare alla trasferta di Cremona o, se preferite, alla prima di campionato, che per le due contendenti è stata posticipata al 3 ottobre.